Nella parrocchia di San Maurizio, il cui vessillo riporta sul recto la scritta Viva San Maurizio! E al verso quella Rione del Castellazzo, fra lo sventolio delle bandiere e il suono di pifferi e tamburi, il generale proclama per l'anno 2019 Abba Gaia Crosetti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!